Cominciato a 15 anni Anzi, adesso ne amo Sì, a dopo che mi dicevo Ecco Come ti definiresti? Cioè, se uno dovessi dire chi è Antonia Iello, come ti definiresti come artista? Come le sue haclate le sue Perché ti definisci? Non ti definisci Va bene, prendo tutto Alessia 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 Ovviamente lavori live Sì, lo hai visto, l'ho preparata, c'è mai niente Niente Cosa che io non sono mai decidi Però ho cercato di renderlo più moderno, usando le percussioni, cioè il modo di suonare le percussioni e mettendo suoni diversi. Dove lavori meglio in Italia? Nel senso, non faccio domande scomode quali sono i locali secondo te. Preferenze? Qualcosa del genere. Però a me è un tessuto che comunque ti permette, una città che ti permette di esprimenti totalmente nei locali. Cosa stai facendo adesso? Adesso sto vogliando un disco, sempre con le mie... Ma indipendente ha prodotto comunque... Sì, a casa. Casareggio. Sto usando le mie percussioni come... Come lo lancerai poi? Così. Ha, 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 ha! Grazie a tutti.